Anche in Toscana è attivo il numero 112 per qualsiasi chiamata d'emergenza, polizia, carabinieri, vigili del fuoco e soccorso sanitario. Telefona e scarica l'app 112 Where Are You, che ti permette di chiedere aiuto attraverso tre modalità, parlando, scrivendo via chat, senza parlare né scrivere. Ti risponderà la centrale unica 112, che ti localizzerà e invierà il soccorso necessario. Per ogni emergenza, un solo numero, semplice e sicuro. 112.